Ciao a tutti, eccoci qua con un'altra puntata della nostra ginnastica fatta in casa oggi ho trovato questo bancale e lo utilizzeremo come se fosse uno step ovviamente non tutti a casa hanno uno step, cosa posso utilizzare? un piccolo rialzo, un supporto che sia abbastanza largo per salirci sopra che possa supportare il mio peso o più semplicemente per i scalini allora, partiamo subito ah, innanzitutto questi esercizi li posso usare anche come magari pre-riscaldamento per altri esercizi che ci sono sul nostro canale parto toccando in alternata semplicemente il nostro bancale prima un piede e poi l'altro qui posso andare a tempo essendo leggero, ci sto anche un minutino giusto per preattivarmi, diciamo così perfetto successivamente salgo e scendo dal bancale il primo piede che sale sarà anche il primo che scende non continuo con lo stesso ma alterno destro sinistro e sinistro tutta la pianta del piede e scende qui almeno una decina per parte se non anche 15, 20 tanto siamo ancora abbastanza decidi perfetto successivamente ci mettiamo lateralmente il primo piede che sale e l'ultimo che scende questa volta sinistro e scende il destro continuo per almeno 5 volte lo stesso lato e 5 che qui posso andare più piano o un pochettino più veloce cambio lato e qui almeno due giri completi direi perfetto torniamo frontalmente e aggiungiamo che oltre ad appoggiare sul piede il piede opposto sale e cambio che qui ci gestiamo noi sulle ripetizioni sul tempo perfetto torniamo lateralmente e aggiungiamo uno slancio in fuori della gamba anche qui 5 per parte dopo che ne ho fatte 5 cambio lato perfetto torniamo frontalmente e aggiungiamo anche un'alzata frontale più braccio per volta sarà alternato rispetto al ginocchio che solleva per aiutarvi se appoggio il piede destro sarà il braccio destro salire se appoggio il piede sinistro sarà braccio sinistro perfetto torniamo lateralmente e aggiungiamo un'alzata laterale di entrambe le braccia 1 2 e scelgo ovviamente cambio lato sempre spesso numero di volte perfetto ultimo esercizio per quest'ultimo esercizio ci serve un appoggio io utilizzerò il muro come appoggio salgo con l'avampiede sul mio step sul mio bancario l'avampiede è sul bancario il tallone è in fuori lascio scendere i talloni e poi salgo se è abbastanza faticoso resto solo fino all'orizzontale mano a mano che lo ripeto poi posso piano piano scendere un pochettino 10-15 volte sono più che sufficienti perfetto per oggi direi che può bastare questi esercizi li possiamo usare in combinato con quelli che abbiamo caricato la scorsa settimana nelle settimane precedenti e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti